Scuola e lavoro, un connubio tanto auspicato, che diventa realtà nell'Istituto di Istruzione Superiore e Podesti Calzecchionesti di Ancona. Due le sedi dell'istituto, una nel capoluogo e una a Chiaravalle. Il nuovo edificio scolastico di Passo Varano vanta una struttura moderna, ampia e funzionale. Tantissime le offerte formative proposte. In particolare nei primi due anni le occasioni formative hanno un alto valore orientativo perché aiutano gli studenti a capire com'è il mondo del lavoro e soprattutto l'organizzazione della società. Vediamo le offerte nel dettaglio. Grafica e comunicazione, servizi commerciali turistici e promozione pubblicitaria, servizi sociosanitari, odonto tecnico, manutenzione e assistenza tecnica. Acconciatore, estetista, operatore amministrativo, segretariale, meccanico ed elettrico. Un istituto scolastico moderno deve offrire molto agli studenti e quindi svolgere anche nuovi compiti. Il compito dell'istituto è far acquisire agli studenti dei valori che possono essere spendibili nella società prima ancora che siano formati a una professione. La scelta di una scuola è un momento importante nella crescita dei ragazzi, per questo devono fare la loro scelta in modo consapevole. Gli studenti devono sapere che nell'istituto troveranno, oltre che occasione di formazione, anche una capacità di organizzazione che gli aiuta ad orientarsi all'interno dell'istituto e soprattutto li guida nelle varie scelte educative. Per chi fosse curioso, la scuola è aperta nei giorni di sabato 18 gennaio, domenica 19 gennaio e domenica 2 febbraio. Per chi fosse curioso, domenica 19 gennaio e domenica 19 gennaio e domenica 19 gennaio.